Direttamente dalla Cameretta Magica, oggi 2 di marzo faremo un video commemorativo perché proprio ieri, 1 di marzo, sono passati 10 anni dalla morte di Lucio Dalla. Lucio Dalla è stato comunque un grandissimo cantante, è stato pure un genio della musica. Poi tra le sue canzoni più celebri abbiamo 4 marzo 1943, Come è profondo il mare, Attenti al lupo, Anna e Marco, Occhi di ragazza, Nani che fu l'ultima canzone che cantò poco prima di morire al festival di Sanremo del 2012. Poi, cos'altro abbiamo? Aspettate. Poi, beh comunque c'è da dire che Lucio Dalla è stato veramente, veramente un grandissimo cantante ed è uno dei miei tanti artisti preferiti. Ah, Dark Bologna pure, è una delle più belle e più famose canzoni di Lucio Dalla. Poi, Lucio Dalla poi aveva pure una casa alle Tremiti ed era a quanto pare devoto pure a Padre Pio e a quanto pare lo conobbe pure in gioventù. E tra l'altro Lucio Dalla aveva pure una casa a Roma. Poi a Lucio Dalla gli piaceva molto Bologna notturna. Ho visto un video di Lucio Dalla quando andava a Bologna di notte. Andava a comprare il giornale all'edicola e gli piaceva molto prendere il cappuccino. Quindi, ah, pure attenti al lupo, è stato uno dei brani più famosi di Lucio Dalla, ma anche uno dei più belli. Vediamo un po'. Lucio Dalla poi era molto simpatico, era un amico, era amico un po' di tutti. E comunque Lucio Dalla, diciamoci la verità, è mille volte meglio in confronto a molti cantanti di oggi. E quindi è un cantante che consiglio caldamente di far conoscere alle nuove generazioni e di far ascoltare anche un paio di canzoni. Comunque... Aspettate... Futura pure, fu un'altra canzone, una delle più belle e anche più famose canzoni di Lucio Dalla. Ah, e poi dal 4 marzo si potrà pure visitare la barca di Lucio Dalla a Formia. Caruso pure è un altro brano di Lucio Dalla, dei più famosi. Canzone. L'anno che verrà forse già l'ho detto, che poi sarebbe caro amico ti scrivo. Ah, Piazza Grande. Uno dei brani più celebri del cantante. L'ultima luna. Telefonami tra vent'anni. E così via. Poi... Ora vi faccio vedere una sua... qualche sua immagine. Lucio Dalla comunque non era tanto alto, era alto 1,65m. Questa è una delle sue foto più celebri, più... o meglio più note. Che quando cantava portava il suo tipico zucchetto oppure il tipico cappello. Poi... ah, poi Lucio Dalla riposa nel cimitero monumentale della Certosa di Bologna. Che magari se dovesse capitare che dovesse tornare a Bologna andrò a rendere omaggio al cantante. Vi farò vedere pure il suo manufatto, cioè la sua tomba. Tomba molto bella, dove c'è sepolto il padre e la madre, c'è anche lui. Poi qui ci sta l'immagine di questo rosario che aveva sempre appresso. E' stata fatta pure una sagoma. Una statua di Lucio Dalla con il suo tipico cappello, il bastone e il clarinetto. Che altro c'è da dire? Beh, comunque Lucio Dalla, presumo che manca un po' a tutti. Comunque, sarebbe stato bellissimo per me conoscerlo. Perché era veramente, veramente una bella persona. Che dire? E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao Lucio, ovunque tu sia, ti penseremo sempre, tutti noi fans. Ciao, ci vediamo alla prossima.